la pasta si può mettere qua la posso prendere io? questa è un'altra no, quindi viene conservata per domani questa viene conservata per domani si, si 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 facciamo la newse a newse eccoci i suoi un paese quindi questa è la vera signora perché guarda prima c'erano questi miei corsi avete veramente il spazio e se ci sono spaventi di che c'è la coccanina, perché c'è il legno, così c'è la coccanina.